Ciao ragazzi sono Red e benvenuti nell'aggiornamento della camera numero 1.0 Sigla Eh sì signori, siamo finalmente arrivati all'aggiornamento della camera Era una cosa che volevo fare da tanto, non sono stato molto bene questa settimana Allora ho detto, sai cosa c'è? Visto che comunque sono a casa Approfittiamone e giriamo qualcosa direttamente in loco Dietro di me come potete vedere ci sono dei fucili nuovi, ho fatto degli acquisti Ho pensato che fosse più interessante farvi vedere le cose che ho comprato nuove Piuttosto che farvi vedere per l'ennesima volta tutta la mia roba che bene o male conoscete In questo modo il video è un pochino più veloce, voi avete modo di divertirvi un pochino di più guardandolo E io non perdo 800 ore in sala montaggio a montare ogni singola roba di robe che ho già detto Guilty pleasure, quindi prendetevi una bibita e un sacchetto di patatine E gettiamoci all'interno di questo aggiornamento della camera È stato un periodo molto di transizione per me quest'ultimo anno Perché ho rivoluzionato veramente il modo in cui mi approcciavo al software E ho deciso di passare da un'idea di more is better, quindi più è meglio E concentrarmi su un minor numero di cose con un valore molto più alto Ecco perché ho venduto la grande maggior parte dei miei fucili tenendo solo alcuni a Fissionados Come il Masada qui sopra e il mio cecchino ancora più in alto Eccolo lì E dedicarmi piuttosto a prendere fucili di fascia veramente molto alte Che so che quando vado a utilizzare mi ci diverto per forza Ecco perché il primo fucile di cui vi parlo oggi è un VFC URG-1 GBB Fucile completamente GBB per la precisione l'URG-1 Questa bellezza che avete davanti è un VFC URG-1 GBB Che significa che è completamente GBB Come vedete il sistema interno è completamente vuoto Non troviamo assolutamente niente Quindi non ha gearbox né altre cacate elettriche all'interno È completamente green gas Quindi funziona green gas Ci sono appunto i suoi caricatori apposta Che fittano qui dentro e che permettono al fucile di ciclare in maniera perfetta Io gli ho montato una torcia della Watson In modo tale da poter andare a illuminare perfettamente le cose Non ci ho messo l'unpack perché mi piaceva tenere un build un pochino più leggero Ho messo una normale cinghia di ritenzione economica In futuro vorrei andarci a montare una cinghia della Clow Gear da fucile vero Ovviamente il vantaggio di avere GBB è che ovviamente è molto leggero e ha il peso di un'arma vera Quindi è molto divertente da andare a utilizzare E soprattutto ha un rinculo molto molto serio per così dire Come tutti i suoi GBB ho dovuto comprare i suoi caricatori apposta che sono questi qui Costano veramente un boato Ne ho dovuti prendere 5 quindi uno con questo qui e 4 che erano quelli di riserva da tenere nel fucile Tengono indicativamente 30-35 colpi a seconda che siano quelli originali o questi qua Io ho optato per questi modelli qua che sono leggermente diversi da quelli originali Perché tengono 5 colpi in più sono quelli del 416 sempre della VFC E giusto per fare lo sborone come vedete il sistema rimane aperto Va a chiudersi e È una gran figata Non c'è che dire ho lasciato il mirino attivato È completamente funzionante come potete ben notare Ed è fatto veramente molto bene Per chi mi stia per chiedere quanto ci ho speso Tanto ma tanto tanto Perché ho deciso di prenderlo indicativamente 3-4 mesi fa Questi modelli ormai sono non solo introvabili ma vanno a delle cifre che sono folli Quindi ci ho speso quasi 600-700 euro Adesso lo trovate a 800 Era l'ultimo tra l'altro che c'era in Italia L'ho trovato con un mega affarone E personalmente adoro i modelli GBB E questo è il mio fucile definitivo Tra l'altro passerò poi a modificarlo internamente con tutti dei componenti Man mano che si andrà ovviamente a usurare In modo tale da andarlo a sfruttare al massimo Per chi me lo stesse per chiedere non ho parlato di questo puntatore qui Perché questo puntatore opto elettronico è da arma vera È un Romeo della Sig Sauer Quindi è un sistema di puntamento vero Me lo ha prestato War perché è suo Sto pensando di prenderglielo Adesso volevo avere qualcosa da mettere sul fucile per farvelo vedere E sto valutando Perché ovviamente essendo un sistema GBB va a rinculare quando spare Quindi i mirini normali si vanno a starare E questo invece è perfetto Quindi probabilmente non glielo restituirò mai e finirò con comprarlo Ultima nota interessante Che il paramano di questo affare è un Geyseli Geysel Geyseli Come lo volete pronunciare Chiedete a Pio03 che è molto più esperto di me Sulla pronuncia di queste cose Ed è vero Quindi questo paramano qui è vero Motivo per cui questo fucile costa così tanto Quindi è completamente compatibile con il modello vero È una bomba questo affare E lo amo È probabilmente il mio fucile preferito ad oggi E' stato dietro di me fino a questo momento Anche se l'ho parzialmente oscurato con la mia possente schiena Ma ho comprato anche un altro fucile Ovvero il mio fucile da Softair Per il boschivo Barra ingaggi lunghi Barra CQB con transizione a pistola molto frequente Ovvero il Trident È troppo lungo Non ci sta in inquadratura Della Crytac Questo bambolo è veramente una bomba A mio parere L'ho tra l'altro setappato proprio come piaceva a me È ovviamente una R15 carabina lunga Con paramano completamente M-lock Anche in questo caso il RIS Quindi tutta questa parte qui Il paramano insomma Chiamatelo come volete È da arma vera Quindi tanta tanta roba Qui ho montato come potete vedere Sia torcia della Watson che D-BAL 2 In modo tale da poterlo andare a utilizzare Come preferisco E tra l'altro ha il doppio attacco remoto Quindi questo per la torcia E questo per il D-BAL 2 Quindi per il puntatore laser Normalmente noi non consigliamo Questi modelli in particolare Ovvero i Trident In particolare Crytac Noi consigliamo solamente O principalmente il Vector Perché sono molto molto pesanti E soprattutto ci sono opzioni Più economiche Migliori Che sparano meglio Perché quindi tu hai preso questo Perché sono masochista Io sono molto molto picky Quando scelgo il mio fucile E quindi volevo proprio un modello Che rispettasse esternamente Determinate features E questo fortunatamente Le rispetta a pieno E' molto pesante Come ho già detto Però è completamente in metallo Ovviamente elettrico Non l'ho neanche ancora modificato Lo necessita tra l'altro Che è una cosa che non mi aspettavo Da un fucile Insomma Crytac Nuovo di pacca Infatti ha ancora Oltre che il logo Crytac Che è spettacolare Il loghino Di chiusura Insomma che sta a significare Che il fucile Non è ancora stato aperto Devo modificarlo Tassativamente Però ragazzi Mi fa veramente impazzire All'esterno Perché ho preso un fucile Basandomi esclusivamente Sugli esterni Più che sugli interni E' veramente ben fatto Va solamente un pochino Modificato Ha ovviamente Sistema di puntamento RD2 Della Eimo Qui veramente Ce l'ho messo ovviamente Finto E la replica Della Eimo Funziona perfettamente Mi piace veramente tanto Anche su questo Una cinga a due punti Normalmente Ha la possibilità Di andare ad attaccare Ovviamente anche quella A un punto E' il mio bimbo E' stupendo E' fenomenale Per quanto riguarda I fucili Come noi acquisti Non c'è altro Se non un paio di modifiche Che ho fatto a fucili Che già avevo Ve li faccio vedere Veramente in passano Per non perderci Troppo tempo Questo è il mio ARP9 Della GNG Un'altra marca Di cui mi sentite parlare Veramente poco E che io ho acquistato Semplicemente Perché avevo bisogno Di un guscio esterno Ad andare a modificare Completamente All'interno Infatti lo sono andato A modificare Completamente all'interno Ho buttato via Tutto quello che c'era dentro Ci ho montato una tacca Nel resto Adesso sta uscendo Tra l'altro Molta roba Molto più interessante Diciamo che Non essendo fan Dell'arma corta Mi sono accontentato Di un fucile Un pochino Più di serie B Anche se dentro È stato modificato Ampiamente Adesso è veramente Un laser Sistema di puntamento Come potete vedere Sempre un Emo Ve lo linko comunque In descrizione Come tutto quello Di cui sto parlando Che potete ovviamente Acquistare da Monopoly Softair Shop Il negozio per cui Lavoro E che offre Attrezzatura da softair A ottimissimi prezzi E che soprattutto Ci dà una mano A produrre Contenuti sempre migliori A farvi vedere cose Sempre più divertenti Ho cambiato il calcio Ce ne ho messo uno Un pochino più leggero Di questo tipo qua E anche come impugnatura Sono passata questa cosa Un po' figlia del demonio Che però su questo paramano In metallo Ci sta perfettamente Attacca direttamente Sull'emlock E mi trovo Abbastanza comodo Con questo affare È veramente super leggero Si oppone completamente Al Trident Qui dietro E mi serve Quando gioco in CQB E voglio andare Veramente leggero Perché è una giornata Fiacca Infine il Ferrum S2 Ovvero il mio fucile A pompa In questo caso Ho fatto una piccola modifica Gli ho montato Questa leva frontale Perché mi piaceva più Questo stile Renegade Un pochino Da bandito Da tenere sotto il bancone Sparare in faccia Quello che sta cercando Di rapinarvi Mi dissocio Ovviamente Volevo provare a montarci Anche un laser di fianco Ma andavo a sbilanciarmi Troppo il fucile Ho optato per Questo sistema Molto più semplice Molto più Divertente Ripeto Non ho mai nascosto Di essere super fan Dei fucili a pompa Della Secutor I Ferrum Ne abbiamo venduti Veramente tanti In questo periodo Ce li state chiedendo Veramente in tantissimi Ce li state chiedendo Veramente tutti quanti Io continuo a consigliare Questi qua a molla Perché sono ovviamente Molto validi E poi dopo il gas Se invece volete giocare Con un fucile a pompa Veramente in maniera seria Questo però è Mio preferito Anche perché il pompa Come detto Lo uso veramente poco E con questo sistema È molto più divertente Da utilizzare Insomma Per i fucili L'aggiornamento Termina qui Quindi direi che ci possiamo Muovere sulle pistole Dove lì ho qualcosina Giusto due o tre robe Da farvi vedere Come potete vedere Mi sono liberato Di vari e tanti fucili Ho tenuto proprio Quelli più vecchi A cui mi ero legato Anche un pochino di più Ovviamente il mio G36K L'altro mio G36 Questa versione normale Della Specnanos Che ovviamente Lì fermo Che non uso mai Chissà come mai E infine Questo M16 Se vogliamo In realtà poi Un M4 Ma vabbè Che è un vecchio modello Che mi è stato regalato Da un caro amico E che ovviamente È dell'epoca Della pera secca Ho cambiato anche La rastrelliera A questo giro Tengo fondine E varie pistole Tutte messe così Anche perché Avendo liberato Un po' di spazio Era un pochino Più carino Da vedere Parliamo quindi I miei nuovi modelli I miei nuovi modelli di pistola Sposto un po' L'inquadratura In modo tale Che la luce Mi colpisca In maniera Più piacevole Anche voi Possiate vedere Un pochino meglio Lasciate perdere Un po' Il casino Che c'è Qui dietro Perché ovviamente Va messo Un pochino A posto Sì Ho fatto lo scout Tutte le volte Me lo chiedete Sì Ho fatto lo scout E sono stato anche capo Quindi sono un boss Parliamo di pistole Che pistole nuove hai comprato Red Perché Ci arriviamo Come sapete In quanto a pistole Io ho sempre scelto Uno e un solo modello Glock 17 Gen 5 Della VFC Questa è la mia pistola preferita L'ho utilizzata Veramente A finimondo Infatti è macinata dentro Anche se la tengo pulita spesso Sparandoci tanto Questi affari Si consumano E ovviamente Il tempo comincia A richiedere Il suo pedaggio Ecco perché Ho deciso Di cambiare pistola Anche se Mi ho già comprata Una nuova Perché non riuscirò mai Veramente A rinunciare A questa pistola Sarà forse Perché ho comprato Una fondina Da 150 euro Con attacco Diventa 250 Della radar Nota come crab In modo tale Da poter tenere Gli accessori La torcia all'interno Forse Quindi l'alternativa Che personalmente Ho scelto Alla 16 Gen 5 Che aveva Tutta una serie Di comodità Sia per regolazione Dello pub Che come fuoco Performance È stata L'M17 P320 Six Hour Pro Force Come vedete Però questo non è Un modello normale Di P320 Anche perché Come sapete La P320 è presente In due colorazioni Normalmente La versione Completamente nera Che ovviamente Ho comprato E personalizzato Come avete visto Tra l'altro Dall'altro video È quella Completamente Tan Quindi solamente Con i colori Che vedete Qui sul carrello E su La gonnellina Del caricatore Perché quindi Tu Red Hai questo modello Qui? Beh perché Red Ha un altro modello Di pistola Che è esattamente Opposta Quindi sono riuscito A trovare Un fusto Inferiore Completamente Nero E l'ho scambiata Con la mia Tan Come se avete letto E visto su Instagram Dove dovreste seguirci Tassativamente Sia me che il negozio Perché ci permette Di comunicare con voi Cose importanti E decidete le sorti Di questo canale Io ho fatto questo giochino E le ho invertite Perché volevo qualcosa Che fosse sì Bello come la P320 Ma un pochino Più personale Sono matto Perché effettivamente In soldoni Ho tre P320 In casa Forse Ma chi siamo noi per giudicare Noi Siamo noi per giudicare Morale della favola Mi sono fatto Questo incredibile regalo Mi sono preso una P320 E l'ho smezzata La torcia è ovviamente Una super economica Tra l'altro È di uoro Strano E ho fatto questo spezzato Quindi il busto Il fusto Della pistola La parte inferiore È completamente in polimero Ma è nera Mentre il carrello È tan E il caricatore Ovviamente È questa versione qui Che è nero dentro Ma La parte in In coyote Appunto Della gonnellina Questa pistola È fenomenale L'unico problema È che non si trovano I caricatori Non si trova neanche La pistola Ultimamente Perché si fa veramente Fatica a reperire Determinate cose E funziona veramente Da dio Alla regolazione Dello PAP Direttamente Da questa stina qui Come ho recensito A suo tempo Quindi andatevi a recuperare La recensione Linkate in descrizione Vi basta andare a girare E andate a regolare Lo PAP Spara veramente bene Personalmente Tiene testa Alla Glock 17 Gen 5 Anzi È più difficile Da utilizzare Più facile Che sbagliate il bersaglio Se non avete Un'impugnatura Perfetta E andate a colpire E premere il grilletto Nella maniera corretta È molto più divertente Ad utilizzare Perché chi gioca Da tanto come me Ormai si è abituato A determinati drills E quindi ha più voglia Di cose un pochino Più particolari Come questa Ovviamente Io non riesco più A utilizzare le pistole Senza sistemi di puntamento Come torcia Torcia e laser Principalmente Vi consiglio L'X300 E l'X400 Della Watson Che trovate Linkati in descrizione Per chiarezza Questa è l'X400 Quindi torcia E puntatore laser Per l'appunto Quindi potete andare A scegliere voi Di andare ad attivare Il laser Che voi adesso Non vedete Me lo devo puntare addosso Farvelo vedere E potete utilizzare Sia laser Che torcia Torcia e laser Io queste le adoro Costano poco Come torcia E funzionano bene Quindi non avete Quella cosa del Sì ho montato la torcia Ma in realtà Funziona Di cane Mi brucio le batterie E basta Se volete spendere Poi qualcosina di meno Potete optare per la X300 Che è quella che ho montato Io su questa P320 Che è l'altro modello nero Che possiedo Sono matto In questo caso C'è solamente la torcia Funziona veramente molto bene È comunque Ovviamente Un modello economico di torcia Quindi non è una torcia vera Però insomma Secondo me Fa quello che deve Tra l'altro Con le fondine Omnivore Che vi ho recensito La settimana scorsa Potete montare direttamente La pistola All'interno della fondina E queste fondine Montano solamente Quella torcia lì Quindi l'X300 Vera o finta della Watson Quindi poi dopo potete Avere una fondina Per tutte le vostre pistole Che monta Quel tipo di torcia lì Quindi se poi cambiate pistole Ci mettete per esempio Una 1911 Una Glock E avete una X300 Della Watson Quella lì monta E non si sgancia più E voi siete A posto Detto ciò Io ho concluso Questo video è venuto Comunque molto lungo Perché facendovi vedere Della roba nuova Spero sempre che vi Emozionate Quanto mi emoziono io Quindi questo aggiornamento Della stanza 1.0 Per questa prima parte Del 2013 Termina qui Io vi ringrazio Di avermi dedicato La vostra attenzione Ovviamente tutta questa attrezzatura È stata presa Dal Monopoly Software Shop Il negozio per cui lavoro E che offre Attrezzature da software A ottimi prezzi Soprattutto con anche Consulting E Aftermarket Help Sono sicuro Che abbiate capito In sostanza Se volete attrezzature da software A ottimi prezzi Andate a controllare Il link in descrizione Perché oltre che Tutte le cose di cui ho parlato C'è anche il sito ufficiale Del Monopoly Software Shop E ci permettete Di portarvi contenuti Sempre migliori Sempre più interessanti E voi vi portate a casa Roba da software Veramente ad ottimo prezzo Vi ricordo anche Che abbiamo attivato Il sistema di pagamento A rate Quindi solamente Per acquisti in negozio Potete magari prendervi Quel fucile Che costecchiava un pochino troppo E prenderlo a rate Quindi pagarlo Con delle piccole rateine Ogni mese Che decidete voi Se volete sapere di più Ripeto Whatsapp E ovviamente Il nostro numero di telefono Che trovate tutto In descrizione Qui da Red È tutto Io vi ringrazio Di essere stati qui con me In questo stupendo sabato E come al solito Stay angry Iscrivervi al nostro canale Iscrivervi al nostro canale Iscrivervi al nostro canale